in questi anni siamo stati costretti a rimanere a casa a seguito della pandemia però abbiamo scoperto il nostro territorio camminando nei parchi o nei boschi nei dintorni del nostro paese regalandoci passeggiate nella natura con i nostri cari quest'anno per la festa del papà regala una pianta farai un regalo particolare che durerà nel tempo come l'amore che provate l'uno per l'altro aiuterai l'ambiente e migliorerai il panorama naturale del parco tanti auguri a tutti papà dal bosco dei ricordi